Tutti i tutorial della settimana Detto fatto con Serena Rossi, tutti i tutorial della settimana Serena Rossi, seconda settimana ha detto fatto, anticipazioni. . Partirà questo lunedì 18 settembre la seconda settimana che vedrà, su Rai 2 a partire dalle 14, l'attrice Serena Rossi al timone del programma Detto fatto, in sostituzione di Caterina Balivo, che proprio in questi giorni ha festeggiato il secondo mese di vita della sua piccola Cora. . 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 La sezione matrimoni, invece, Pinella Passaro aiuterà una sposa a scegliere l'abito per il suo giorno speciale e Silvia Nobi aiuterà una ragazza nella scelta del vestito per il matrimonio di un'amica. Per quanto riguarda lo stravolgimento del look, troveremo Tony Pellegrino e Salvo Filetti alle prese con due ospiti diverse. Non mancheranno le sezioni dedicate alla cura dei capelli e al design di oggetti. Morena lo giudice ci mostrerà un trattamento di bellezza per capelli prendendo come modella un ospite in studio, mentre Silvia De Giorgi darà nuova vita a un vecchio oggetto e valore a un prodotto low cost. Infine Giancarlo Scrofani ci parlerà di cover per il cellulare, con gli opportuni tutorial per realizzarle. Grazie a tutti!